torniamo a parlare di mercato perché in questi giorni se ne è parlato tantissimo si è parlato di rivoluzione di possibili addi più o meno clamorosi si è parlato un po di tutto anche di tanta fuffa diciamo così io partirei da un primo punto che secondo me va messo e che è fondamentale innanzitutto che riguarda la dirigenza riguarda l'inter riguarda il progetto tecnico riguarda il mister conte il primo punto da mettere secondo me è abbastanza chiaro che la dirigenza e il mister conte sono in linea nonostante tutto quello che si sta dicendo c'è un progetto triennale fino al 2022 marotta ausilio bacin conte tutti andranno in scadenza di contratto nel 2022 a dimostrazione del fatto che c'è un progetto triennale e che si tireranno le somme nel 2022 appunto l'obiettivo quindi in questa sessione di mercato nelle prossime settimane sarà innanzitutto quello di costruire una rosa su misura per l'allenatore o comunque di trovare una sintonia sul mercato nella costruzione della rosa che metta d'accordo la dirigenza e che vuole la questa dirigenza accontentare il mister perché vuole mettere il mister nelle condizioni di rendere al meglio e di poter l'anno prossimo sì arrivare a vincere almeno un trofeo l'obiettivo dichiarato della prossima stagione è quello di arrivare a vincere per farlo l'inter vuole accontentare il mister mettergli a disposizione quelli che sono gli obiettivi richiesti ovviamente la dirigenza non è che accetta tutto quello che viene detto dal mister si fanno le dovute valutazioni anche in base a quelle che sono le opportunità che si possono presentare sul mercato nell'ottica però quindi riportandoci alla prima premessa sempre più orientati al 352 o al 3412 che si sta evolvendo in questa fase nell'inter quindi sempre più nell'ottica di assecondare la richiesta e la filosofia di gioco del mister che al momento prevede questa difesa 3 che a molti non piace molti fa discutere però fa discutere anche perché ci sono in alcuni ruoli e in alcune zone del campo interpreti che non sono adatti all'idea di gioco del mister che in estate ha preso alcuni giocatori e ha tenuto altri anche forte delle rassicurazioni che erano arrivate dallo staff tecnico già presente dalla dirigenza già presente dopo un anno di valutazione il mister si è fatto le sue idee ciò porterà ad una rivoluzione più o meno profonda con anche possibili colpi di scena più o meno clamorosi con calciatori anche importanti che potrebbero finire appunto tra i possibili partenti se considerati appunto non adatti per caratteristiche tecniche ma anche e sottolineo per mentalità e attitudini alle richieste del mister oggi in particolare la gazzetta dello sport ha individuato addirittura 11 calciatori che potrebbero potenzialmente lasciare l'inter è stata disegnata una formazione intera vado a mostrarvela vado ad analizzarla giocatore per giocatore vedendo facendo anche delle specifiche perché dobbiamo prendere tutto un po' con le pinze dobbiamo analizzare un po' tutto quanto qui tutto quanto quindi allora questa è la formazione disegnata dalla gazzetta dello sport dei possibili partenti nella prossima finestra di mercato parto dalla difesa dove troviamo in porta eh Tommaso Berni ma lo sapevamo in scadenza di contratto è un calciatore che eh ormai ha trentasette anni è giunto a fine ciclo con l'Inter e l'Inter si sta già cautelando praticamente arriverà un nuovo vice Andanovic quindi Padelli scalerà terzo portiere Tommaso Berni ovviamente non c'è più spazio e lascerà l'Inter la difesa la difesa fa molto discutere allora parto da Ranocchia anche Ranocchia è da verso la scadenza del contratto e considerando quelli che sono i movimenti che sta facendo l'Inter in difesa tra questi è quello che più probabilmente potrebbe lasciare l'Inter o comunque restare al massimo in un ruolo veramente molto molto marginale diciamo che Ranocchia non sarà più credo dall'anno prossimo la prima alternativa a Defray in difesa si farà un passo avanti con altri innesti poi il discorso gli altri due nomi sono abbastanza legati Godin e Skriniar diciamo che Godin ha espresso anche a parole anche pubblicamente l'intenzione la voglia di riprovarci l'anno prossimo e di poter restare all'Inter perché non si vuole dar per vinto dopo una sola stagione diciamo che la sua posizione abbastanza in bilico l'Inter ascolterà offerte per il giocatore soprattutto perché ha un ingaggio molto molto importante se Godin si dimostrerà migliorato in questo finale di stagione nella difesa tre e quindi potenzialmente titolare allora le chance di permanenza aumenteranno perché ovviamente con un ingaggio così importante l'Inter non pensa al momento di trattenere un giocatore per fare il diciamo il panchinaro ha un ingaggio così importante almeno al momento la sensazione è questa io francamente su Godin ho visto altri giocatori giocare peggio di Godin detto molto sinceramente Mila Skriniar è un nome invece da tenere molto sotto osservazione ragazzi perché perché è un calciatore che ha un mercato importante nonostante una stagione non brillantissima ha ancora tanti estimatori soprattutto a Manchester sia City che United sono molto interessati a Mila Skriniar società soprattutto lo City già l'anno scorso si era presentata alla porta dell'Inter con offerte elevate elevatissime anzi direi così e quindi Skriniar è un profilo da tenere sotto osservazione sempre per quel discorso che facevamo prima Skriniar nella difesa tre è apparso in difficoltà io credo e credevo che si potesse integrare meglio che potesse trovare una migliore collocazione potesse crescere anche nella difesa tre per il momento non si è dimostrato il difensore top che avevamo imparato a conoscere quindi Skriniar viene messo in discussione o comunque viene fatto un discorso molto semplice su Skriniar che vale un po' per tutta la rosa se arriva una società in grado di mettere sul piatto un'offerta molto elevata per un calciatore che non viene reputato al momento super pronto o comunque perfetto nello scacchiere che ha in mente il mister l'inter valuta offerte quindi Skriniar è uno di quei potenziali calciatori che possono portarti un tesoretto molto elevato da poi con cui poi andare a reinvestire su altri profili più funzionali al progetto di conto e tra l'altro su Skriniar va anche precisato che c'è per esempio il Manchester United che è molto interessato e l'Inter ha in ballo con il Manchester United anche il discorso Sanchez quindi attenzione a possibili scambi aggiungo io i quotidiani non ne stanno ancora parlando squadre come Arsenal e Chelsea hanno urgentemente bisogno di piazzare un grande colpo in difesa quindi attenzione anche a possibili inserimenti a sorpresa di questi club della Premier che hanno tantissimi soldi poi andiamo a centrocampo a centrocampo ci sono altri nomi importanti d'Ambrosio è uno di quei calciatori che diciamo hanno fatto discutere un po' perché il discorso di quando disse abbiamo un po' mollato eccetera quindi dal punto di vista proprio della mentalità ecco era quello che dicevamo prima è un giocatore da tenere d'occhio d'Ambrosio il suo rinnovo non è stato ancora ufficializzato resta al momento un po' in stand by credo che al limite farebbe resterebbe all'Inter farebbe comodo più come alternativa in difesa quindi da terzo di destra che da esterno di centrocampo quindi lo terrei eventualmente d'occhio in quell'ottica lì nel caso in cui dovesse restare gli altri sono tutti i calciatori a centrocampo nella linea mediana che effettivamente sono molto probabili come partenze ovvero Cristiano Biraghi non sarà riscattato e rientrerà la Fiorentina Asamoah è finito fuori dai piani del mister ormai lo diamo per scomparso e lascerà l'Inter Gaiardini e Vesino almeno uno dei due andrà via sicuramente praticamente ma è molto probabile che partano entrambi Vesino ha mercato anche in Inghilterra ma potrebbe rientrare in qualche scambio l'Inter ha provato e riproverà ancora una volta a scambiarlo con altre società anche in Italia Gaiardini e sta perdendo un po' posizioni al momento e quindi è probabile che anche lui a fronte di una buona offerta o di un possibile scambio possa partire arriviamo poi a un nome che sta facendo molto discutere ed è quello di Marcello Brozovic cercherò di essere breve su su Brozovic il discorso ragazzi è molto semplice diciamo che le ultime vicende extracampo non hanno di certo favorito le varie valutazioni che si stanno facendo se il mister si aspettava una presa di responsabilità in questo periodo una maggiore attenzione a tutti i dettagli diciamo che quell'uscita accaduta a Brozovic appunto non di sicuro non ha fatto felice lo staff tecnico quindi la posizione di Brozovic è veramente da tenere sotto osservazione è un altro di quei calciatori che rientra nel discorso che abbiamo fatto simile a Skriniar nel senso che se arriva un'offerta veramente elevata che permetterebbe all'Inter di reinvestire su un profilo più funzionale per il modulo di Conte io credo che l'Inter lo farebbe partire un esempio per farvi capire molto banale ragionando diciamo lavorando con la fantasia se con i soldi di Brozovic riesce ad arrivare a Conte l'Inter lo fa per per chiarirci ovvio che le valutazioni sono molto differenti e non è fattibile fuori uno dentro l'altro così in maniera automatica però è per farvi capire la logica che c'è dietro se la cessione eventuale di Brozovic permette all'Inter di arrivare a un giocatore più funzionale al modulo che ha in mente eh il mister Conte l'Inter lo valuta penso al momento sia difficile francamente ipotizzare una cessione di tutti questi centrocampisti che vediamo qui più Brozovic e incluso Skriniar quindi io tutti e gli undici che scrive la gazzetta dello sport lo vedo francamente difficile al momento ci aggiungo anche eh Sebastiano Esposito che trovate qui in attacco che andrà in prestito dopo aver già trovato l'accordo per il rinnovo quindi tutti e undici eh mi sembra francamente difficile diversi di questi è molto probabile tra questi eh non figura Cristian Eriksen come vi abbiamo detto anche su passioni inter.com brevemente vado in chiusura anche su Eriksen io credo che l'Inter abbia fatto un investimento molto importante e molto ragionato non è che si è trovato all'improvviso l'opportunità di prendere Eriksen e l'ha preso a scatola chiusa l'Inter ha fatto le dovute valutazioni ha reputato eh di voler fare un investimento eh importante per un calciatore che diventa il più pagato della rosa e non credo che dopo così pochi mesi l'Inter abbia cambiato idea o comunque che l'Inter abbia già intenzione di privarsi di un calciatore come Eriksen che deve ancora dimostrare tanto che non ha avuto ancora modo e tempo di dimostrare tutto anche per tutto quello che è successo dopo il suo arrivo e per i mesi di lockdown eccetera per cui Christian Eriksen non rientra in questa lista qui eh semplicemente perché al momento almeno secondo me Eriksen non è in vendita a meno che anche qui non arrivino veramente opportunità veramente clamorose di eh poter inserire Eriksen in un'operazione per arrivare ad un calciatore di livello ancora superiore e che sia ancora più funzionale al progetto di Conte eh scenario francamente molto difficile credo che anzi eh più più che una partenza di Conte eh sì di di Eriksen scusate sia possibile una rivoluzione che porti l'Inter ad essere più strutturata in una maniera che consenta alla formazione di supportare al meglio Christian Eriksen e di farlo rendere al meglio e quindi di far rendere al meglio eh di conseguenza tutta la squadra fatemi sapere eh nei commenti che cosa ne pensate eh se siete d'accordo con la mia analisi chi di questi secondo voi va confermato e chi invece andrebbe ceduto oppure se ci siano anche altri calciatori non inclusi in questa losa che secondo voi andrebbero ceduti iscrivetevi al nostro canale YouTube tutti i giorni in diretta alle diciannove anche su Twitch tutti i giorni in diretta alle diciannove e ovviamente su Springer Spotify Apple Podcast e Google Podcast con tutte le nostre analisi e le notizie in formato podcast 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 Podcast